Oggetto sconosciuto in discesa veloce! Estendete il perimetro, nessuno entra, nessuno esce. Grandioso! Dove si va? Dobbiamo andare in quella direzione. Latitudine 4.0.5 Mi sa che è meglio quella direzione. Quei veicoli adottano uno schema da inseguimento. Sei tu che lo fai! È possibile! Seth, no! Io e mio fratello veniamo da un altro pianeta. Eh, voi non somigliate a due alieni. Perché come sono gli alieni? Lo sai come sono? Sono piccoli, piccoli, verdi, con le antenne e portatemi dal vostro capo, terrestri. Secondo lei sarebbero due extraterrestri alla ricerca della loro astronave perduta? Oh, loro sanno fare anche questa roba qui. La nostra astronave è dentro Witch Mountain. Se non arriviamo in tempo, inizierà l'invasione. Chi è lui? Un cacciatore di taglia. È qui per noi. Vi porterò dove dovete arrivare. Ti siamo grati per la comprensione. Parla con i cani. Ovviamente. È una cosa più grande di lei. Via, 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 via! Non so che fai, ma non smettere. Leggetemi! Sai farla volare, vero? Ci siamo arrivati! Ti sei schiantato al suolo, ricordi? A vero! Ricordi! Grazie a tutti.